Carissimi amici radioascoltatori, un caro saluto a tutti voi da Denise Arcieri. Per conoscere meglio l'ente nazionale Sordi, nello specifico la sezione provinciale di Ragusa, oggi abbiamo il piacere di avere in studio Francesco Arrabito, vicepresidente dell'ENS di Ragusa, e le due interpreti di lingua all'IS, Valeria Licitra e Sonia Muccio. Noi innanzitutto li ringraziamo per aver accettato il nostro invito, per noi è veramente un piacere avervi oggi qui con noi. Parleremo insieme a Francesco. Francesco vorrei chiederti appunto, posso darti del tu? Ci possiamo dare del tu? Certamente. Ok. Allora, l'ENS è nato a Ragusa nel 1950, quindi parliamo di 71 anni. Sicuramente è una strada bella lunga. Vorrei chiederti quali sono stati secondo te le tappe principali di questi anni e cosa è cambiato nel tempo? Grazie mille per questa domanda, ti ringrazio. Dal 31 agosto del 1950 abbiamo l'ENS qui a Ragusa. Il primo presidente fu Cesare di Falco. Iniziò piano piano a conoscere, ad incontrare le persone sorde, a cercarle, per avvicinarle all'ENS e iniziò a frequentarle, a prenderli proprio da piccoli e portarli all'interno dell'ENS e piano piano diventarono numerosi. Lo scopo era tutelare le persone sorde e dimostrare che eravamo tutti uguali. Ed era un nostro diritto stare tutti insieme e protestare per ottenere i nostri diritti. Qualsiasi domanda che loro volessero fare, il presidente era disponibile per loro. Ad oggi è lo stesso. Piano piano noi cerchiamo di lavorare con le persone sorde e portarle, per poter stare tutti insieme. Lavoriamo tantissimo con gli immigrati che vengono qui, li accompagniamo dai medici, li accompagniamo per poter presentare le richieste di pensione, eccetera. Sono tante le attività che facciamo, ma continuiamo da allora con queste attività. Infatti adesso vorrei chiederti proprio delle attività, delle iniziative, che tra l'altro tantissime proprio incentrate sull'inclusione a 360 gradi e dei servizi che offrite. Perfetto. All'interno dell'ENS cosa facciamo? Beh, allora, all'ENS ci occupiamo appunto della richiesta della pensione di sordomutismo, della legge 104. Aiutiamo le persone sorde a comprendere, diciamo, a comprendere qual è il leader burocratico da affrontare, quindi li accompagniamo dai medici per poter effettuare tutte le visite. e solitamente sono accompagnati da interpreti qualificate. Poi inoltre, oltre la 104, ci occupiamo anche della 381 per l'invalidità e sempre la accompagniamo tramite l'interprete. Abbiamo anche la legge legata alla disabilità riguardo al lavoro, quindi la 6899, che è un diritto, proprio come dice la legge, che le persone sorde vengano inserite all'interno delle categorie speciali per poter trovare all'interno dell'ufficio di collocamento un lavoro, perché è un diritto avere un lavoro, ma è anche un diritto loro avere l'interprete che li accompagni affinché possa tradurre tutte le informazioni. Ma anche per la patente, come fanno i sordi a guidare la moto o la macchina? Sono in grado di guidare la moto e la macchina, ma hanno bisogno di un aiuto. C'è una legge che tutela e aiuta le persone sorde e l'ENSI, in questo li accompagna, in tutto il percorso, proprio al fine di poter ottenere la patente di guida. Vorrei ora fare un focus legato proprio all'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto. Come avete vissuto e affrontato questa particolare emergenza e soprattutto quali bisogni, problematiche sono emerse e come avete cercato di rispondere a questi bisogni. Già, è stata una situazione bruttissima, orribile. Un anno, 2020, abbiamo avuto il Covid. Noi sordi ci siamo sentiti proprio... La nostra è stata una difficoltà davvero non indifferente. Noi non avevamo informazioni di nulla, perché il governo, nella prima fase, noi siamo rimasti a casa, era vietato uscire, ma i sordi non sapevano nulla, non sapevano come funzionasse, come dovevano comportarsi. Quindi erano bloccati a casa e non sapevano cosa poter fare. Noi abbiamo avuto la fortuna che le interpreti dell'ENSA hanno tradotto e hanno spiegato tutta la situazione, spiegando proprio come funzionavano le mascherine, il gel, come anche lavarsi proprio le mani. E siamo riusciti noi a superare questa difficoltà grazie a loro, ma è stato davvero difficile tantissimo. Tante persone sorde sono rimaste davvero rinchiuse a casa senza poter sapere nulla. Questa è la nostra mascherina. Le mascherine noi non riusciamo a leggere il labiale se le persone indossano le mascherine. Grazie a queste noi possiamo leggere il labiale e comprendere. Quindi la difficoltà a livello comunicativo è stata davvero reale. Proprio io posso raccontare la mia esperienza, una testimonianza reale. Io sono stato contagiato grazie alle interpreti che mi hanno aiutato, che hanno comunicato con l'USCA chiamando che era l'unica possibilità per poter avere un tampone e mi ha spiegato tutta la procedura, l'iter da seguire, rimanere a casa, stare lontani da tutti. Grazie a lei tutto il mio percorso Covid è stato reso accessibile. Se non ci fosse stata lei io non avrei potuto fare nulla e non sapevo nulla. Noi siamo una famiglia di sordi, siamo quattro persone sorde, quindi la difficoltà era non indifferente. Anche il campanello per assurdo. Grazie Francesco per averci dato questa tua testimonianza, è molto importante. Invece adesso vorrei parlare di qualcosa di bello, di positivo. Qualche settimana fa abbiamo avuto il piacere di avere in studio la dottoressa Viviana Arezzo. ci ha raccontato appunto del progetto che è stato avviato in due scuole della nostra provincia, precisamente a Ragusa e a Comiso. Questa è una di Comiso. Per appunto la pratica della lingua dei segni e degli elementi base della comunicazione visiva rivolta appunto agli allunni della scuola primaria. La dottoressa ha tracciato veramente un bilancio positivo ed è stata molto entusiasta, felice di questo progetto. Vorrei chiederti a te, nello specifico, che cosa ti ha emozionato, colpito di questo progetto, di quest'ultimo progetto. Grazie mille per questa domanda. È molto importante la visibilità, perché per i bambini udenti riconoscere le persone sorde e sapere che ci sono è molto importante per favorire l'inclusione di questi bambini e questo mi dà una grande emozione, una forte emozione. Grazie al progetto fatto e alla collaborazione col Previditorato che ci siamo resi conto, tutti si sono resi conto che i segni sono importanti e significa rendere accessibili le informazioni ma anche i professori e i docenti di storia, di italiano, ma anche di psicologia hanno capito che vedere questi bambini integrati, insieme, che comunicavano con i segni dava una grande emozione anche a loro non solo ai sordi, perché riconoscere la sordità e riuscire a comprendere che i sordi sono realmente così è un'esperienza davvero arricchente che ti lascia tantissimo a tutti non solo ai piccoli ma anche ai grandi è un'emozione grande, è stata per me davvero un'esperienza bellissima. Parliamo di un'altra cosa veramente importante e bella finalmente lo scorso 19 maggio la Camera ha approvato l'articolo 34 ter del decreto sostegni con il quale la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana e la lingua dei segni italiana tattile vengono anche riconosciute comunque la figura delle interpreti è un momento storico importante, una vittoria per tutto il paese vorrei chiederti per te cosa ha significato questo momento Il 19 maggio è stata una data molto importante per noi sordi finalmente siamo contenti per il riconoscimento della lingua dei segni vediamo adesso dopo i 90 giorni cosa avverrà realmente però ci dà davvero una grande soddisfazione perché a livello mondiale l'Italia era l'unico paese che ancora non aveva riconosciuto la lingua dei segni noi abbiamo fatto tante proteste e manifestazioni a Roma affinché il governo potesse ascoltarci perché pensavano che la lingua dei segni e che i sordi non esistessero in realtà esistono, noi ci siamo ed è la nostra lingua madre è una lingua a tutti gli effetti e finalmente siamo arrivati ad oggi che il 19 maggio la legge ha riconosciuto la lingua dei segni e questo significa che noi esistiamo a livello proprio generale finalmente possiamo dire di esistere in Italia sicuramente appunto come dici tu il 19 maggio a livello storico è una data importantissima però vorrei chiederti questo è un passo, un traguardo importante ma secondo te quali sono gli altri aspetti che si dovrebbero considerare per realizzare una vera e propria accessibilità a livello soprattutto culturale e sociale? l'approvazione della lingua dei segni adesso sarebbe utile anche all'interno degli ospedali dei musei ma anche all'interno della polizia dei carabinieri, all'interno della scuola in tutti i settori perché una persona sorda che entra trovando qualcuno che segna ma non importa che si debba per forza essere un interprete ma anche una persona che conosce la lingua dei segni udente e comunica a livello riesce a rendere accessibili le informazioni sarebbe fantastico a me piacerebbe tantissimo che i musei avessero le interpreti ogni volta quando arriviamo non comprendiamo nulla perché a livello non c'è nessuno che ci spieghi nulla noi osserviamo all'interno dei musei e poi non comprendiamo la storia perché non c'è nessuno che ce la spiega ma allo stesso modo riguardo le multe vado io all'ufficio di polizia e nessuno riesce a comprendere io do la patente, do i foglietti do tutta la documentazione però nessuno mi spiega nulla mi dicono ok e vado via la stessa cosa succede all'interno degli ospedali ho un problema al cuore, al cervello come comunico con loro? magari la notte a mezzanotte, a luna di notte succede qualcosa io come faccio? la difficoltà è enorme l'accessibilità dovrebbe essere al 100% su tutti ma anche a livello volessi fare un viaggio vado in aeroporto anche lì abbiamo difficoltà per comunicare perché nessuno comprende la lingua dei segni in qualsiasi settore dovrebbe essere garantita l'accessibilità per le persone sorde adesso una domanda un po' più personale che cosa significa che secondo te veramente spalancare le porte all'inclusività a 360 gradi nella vita di tutti i giorni nel quotidiano nelle relazioni con gli altri? i sordi hanno un feedback non appena guardano una persona riescono a comprenderla totalmente riescono a capire quello che serve e cosa non serve l'obiettivo delle persone sorde è migliorare sempre per arricchirsi capire cosa serve per poter andare avanti e migliorarsi a livello lavorativo in qualsiasi ambito all'interno dei musei questo è quello di cui noi abbiamo bisogno prendere sempre più dagli altri è proprio questo il nostro obiettivo in passato gli udenti e i sordi vi era un divario tra udenti e sordi piano piano perché chiaramente non sentendo avevamo diverse difficoltà adesso piano piano grazie alla lingua dei segni stiamo riuscendo ad arrivare allo stesso livello grazie facebook grazie a tutti i social media che ci permettono di entrare in contatto con le persone anche grazie alla tecnologia riusciamo ad essere al pari delle persone udenti quindi anche a livello di comunicazione in passato questo non c'era proprio perché mancava il contatto visivo con le persone l'unica cosa che manca è la lingua dei segni che le persone a noi mancano le informazioni in lingua dei segni chiaramente poiché non tutto è accessibile al 100% quindi molte informazioni a noi mancano ed è questa la nostra difficoltà di base però adesso noi ci sentiamo al pari ad esempio in auto ad esempio molti ascoltano il tg il giornale il radio noi non possiamo farlo è una cosa che manca a noi proprio perché non possiamo ascoltare invece adesso vorrei parlare di una cosa un po' più tecnica nel mondo ogni paese ha la propria lingua dei segni e anche esistono tantissime varianti in ogni paese in ogni nazione anche se però le lingue dei segni hanno dei parametri tutti in comune cinque parametri in comune quattro legati all'uso delle mani e l'altro invece all'uso delle posture dell'espressività potremmo spiegare ai nostri radio ascoltatori appunto questi cinque parametri nello specifico vorrebbe che li spiegassi io ah ok ok allora la lingua dei segni appunto si ha i parametri formazionali noi la lingua dei segni è proprio una lingua a tutti gli effetti l'unica differenza tra le lingue vocali e la lingua segnata è che al posto dei fonemi noi abbiamo i cremi da crema dal greco mano poi abbiamo appunto noi la configurazione della mano il luogo dove noi andiamo a segnare che diventa il nostro spazio linguistico il movimento e l'orientamento della mano dopodiché abbiamo le componenti non manuali ovvero l'espressione la postura del corpo avanti e indietro l'aggrottamento l'inarcamento delle sopracciglia che vanno a differire una domanda da una frase affermativa o vanno a creare proprio anche ad esempio il superlativo da veloce a velocissimo ok le componenti non manuali appunto abbiamo la postura le espressioni facciali e sono parte integrante della lingua totalmente perché riescono a rendere le espressioni facciali anche un intero argomento a volte anche perché la lingua si basa appunto sulla multiplanarietà appunto dei livelli dello spazio linguistico nel quale noi segniamo ma anche ha una capacità cinematica proprio attoriale che noi ci medesigniamo proprio nella persona che sta parlando e diventiamo completamente usciamo dal nostro sé e diventiamo quella persona che sta parlando grazie alla tecnica dell'impersonamento poi come parlavamo prima magari ci sono anche delle metafore completamente diverse che facciamo anche noi fatica spesso le interpreti a tradurre perché a livello culturale non esistono in quella cultura Francesco Francesco secondo te quelli potrebbero essere i benefici che può portare la lingua dei segni a una persona che decide di impararla gli aspetti positivi tipo migliorare la percezione visiva quali secondo te una persona udente comunque la lingua dei segni da diciamo una rende le persone più felici tra virgolette da proprio una sorta di ottimismo io da udente che inizio a segnare immagino io mi immagino di essere un udente perché sono sordo però chiaramente non lo so perché non sono sempre stato sordo sono nato sordo però avere esperienza con persone sorde in realtà non ad esempio se io fossi un udente la comunicazione l'esperienza con le persone sorde non ripeti io non ho esperienza perché io ho sempre da sempre segnato per cui non non riesco a risponderti non riesco a darti proprio una risposta in merito a questo argomento proprio perché non essendo dente sono sordo chiaramente non posso dirti francesco francesco io vorrei concludere questa intervista con un tuo augurio un tuo pensiero personale voglio lasciarti questo spazio di conclusione appunto pienamente libero intanto intanto vorrei ringraziarvi per questa possibilità questo è molto importante è importante che le persone udenti vedano che esistono le persone sorde che c'è l'ENS e qualsiasi persona che abbia difficoltà o ha dei figli sordi delle famiglie udenti che dico di stare tranquilli e di venire all'ENS che noi li aiutiamo li supportiamo per qualsiasi da quando sono piccoli a fin quando non diventano adulti per superare qualsiasi difficoltà spieghiamo come funziona la protesi le varie leggi l'ENS è disponibile per poter aiutare tutte le persone sorde da piccoli a giovani e adulti anche di terza età tranquillamente questo è quello che noi vogliamo dire una cosa fondamentale un punto molto importante molti ci sono tanti aspetti negativi e tanti aspetti positivi spesso si dice la parola sordo muto questa è una cosa che mi offende tanto mi offende tutte le persone sorde è un termine vecchio anche la legge il governo nel 2006 ha modificato la parola in sordo la parola per definirci sordo e non non udente perché significa che una persona che non sente è una persona a cui manca qualcosa e questo è una grande offesa noi ci definiamo sordi anche la legge riconosce questa parola e ringrazio tutti per averci ringrazio voi per averci dato questa possibilità e gli altri che ci ascoltano adesso invece Valeria ci racconterà un po' del suo percorso innanzitutto Valeria vorrei chiederti come e quando hai deciso di diventare un interprete Elis beh allora la mia esperienza con la lingua dei segni diciamo sembra più una barzelletta molto comica ho iniziato il mio percorso nel 2011 grazie a Sonia che mi ha diciamo invogliata a frequentare un corso di lingua dei segni ed io pensavo che fosse una cosa banale nel senso pensavo mi sentivo stupida a vedermi mentre io gesticolavo con queste mani mi sentivo mi sentivo inadatta pensavo non fosse una cosa adatta a me non pensavo fosse un mondo che potesse realmente trascinarmi al cento per cento e quella sera mentre io lavoravo come cameriera arrivarono quattro persone sorde due coppie e in quel momento mi sono sentita io a disagio mi sono sentita io la vera disabile perché loro riuscivano a comprendere me ma io non riuscivo a comprendere loro dovetti dare mi ricordo un foglietto una penna affinché loro scrivessero quello che volevano e da quel momento ho iniziato il mio percorso in nel mondo dei sordi è stato difficile da dieci anni che siamo all'interno di questo mondo la scelta di diventare interprete nasce grazie a loro vivendo loro vivendo quotidianamente loro tutto e per tutto ti rendi conto che fondamentalmente quello che manca è una legge che finalmente abbiamo è che che le informazioni diventino accessibili per cui tu lì ti sbracci frequenti dei corsi per conseguire una qualifica e ti metti a loro disposizione considerando il fatto che l'interprete non è più l'interprete paternalistica che va a facilitare da assistente che li va ad aiutare l'interprete è un lavoro è un professionista che si mette in gioco e va a lavorare in una terra di mezzo tra il mondo dente e il mondo sordo nasce grazie a loro la voglia di studiare ma soprattutto l'unica l'unica cosa che io consiglio anche a chi vuole intraprendere questo percorso è frequentare le persone sorde soprattutto venire a Lenz perché ci sono tantissime persone sorde dagli adulti ai bambini e l'unico modo per poter apprendere una lingua è viverla 10 anni dicevi appunto cosa in che modo questa esperienza ti ha arricchito a livello personale ti dà ti dà tanto ti fa comprendere che in generale non solo nell'ambito della sordità ma in generale perché noi comunque frequentiamo anche dei corsi noi lavoriamo come assistenti alla comunicazione all'interno delle scuole e lavoriamo vediamo tante disabilità e ti rendi conto che le barriere vivono solamente i nostri occhi sono delle barriere quando tu riesci ad entrare in un mondo del genere tu diventi una persona migliore tu cerchi di comprendere l'altro sempre a prescindere da qualsiasi sia la la disabilità noi non si lavoriamo con le persone sorde ma qualsiasi bambino che vediamo all'interno della scuola per noi è come fosse un'altra parte di noi perché non esiste una persona perfetta per cui loro ci insegnano tanto ma tanto ci aiutano proprio a superare le barriere le difficoltà e a vivere la vita e a guardare il mondo anche con occhi diversi vorrei chiederti secondo te quali benefici potrebbe apportare l'insegnamento appunto imparare la lingua dei segni ad una persona dente secondo te ok beh i benefici sono tanti proprio perché come dicevo prima le persone sorde ti aiutano a vedere un mondo completamente diverso un mondo fatto di immagini riuscire a comunicare con loro ti arricchisce come persona riesce proprio non solo a livello fisico perché tu vai a fare uno sforzo visivo al quale noi udenti non siamo abituati che davvero ci vogliono anni e anni per poter comprendere una persona sorda che sta comunicando in lingua dei segni e riuscirla a mettere in voce mettere in voce significa interpretare dalla lingua dei segni alla lingua vocale poiché all'interno dalla lingua dei segni alla lingua vocale poiché appunto la lingua dei segni non ha preposizioni non ha tante non ha gli articoli per cui diventa complesso anche andare ad interpretare quella 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 frase in lingua dei segni e tradurla in lingua vocale quindi i benefici sono un'elasticità una flessibilità che non è indifferente e poi a livello visivo anche proprio fisicamente riesci a sviluppare molto di più un'elasticità proprio oculare che non è davvero difficile servono anni e anni di esercizio oltre l'aspetto umano ed emotivo che che è veramente fantastico entrare io a prescindere io ho studiato lingue entrare all'interno di una cultura è già affascinante di per sé poi immaginiamo che noi per andare per vivere una cultura e una lingua dobbiamo andare all'estero noi invece abbiamo la fortuna di avere qui le persone sorde e vivere la loro cultura il loro modo di pensare il loro modo anche di muoversi che è totalmente diverso dal nostro è già di per sé affascinante ragazzi io vi ringrazio veramente di cuore per avermi regalato questo momento meraviglioso e questa esperienza spero anzi che ci rincontreremo ci saranno altre occasioni per poter ritornare qui studio e parlare con noi grazie di cuore veramente grazie mille siamo noi che ringraziamo lei è stato un piacere trovarci qui e speriamo che ci sia la possibilità di rincontrarci salute e ringrazio tutti i radioascoltatori per averci seguito a presto Denise Arceri arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti